Siamo con Marenzi, un tuo commento su questa partita, venivate da un importante filotto di Vittorio, ma ti hai dimostrato tanto carattere in campo in tutti i 40 minuti. Sì, forse non abbastanza carattere, certo venire qua a vincere era tosto, il campo era tosto e si sapeva già. Avevamo l'assenza di Falconi che è determinante per noi, ma questo non doveva darci delle scuse. Le distrazioni in difesa, come il ribalzi in attacco che abbiamo subito, gli errori fatti al tiro libero, e forse un po' di rilassamento dopo aver vinto Iseo e venire qui a fare l'impresa ha portato poi alla sconfitta. Una compagine molto giovane è la vostra, che sensazione avete provato dal campo a giocare in una cornice di questo genere? C'è molto entusiasmo e molta voglia di fare e di vincere come stiamo dimostrando. L'esperienza non ci manca perché alcuni nostri giocatori hanno comunque una buona carriera alle spalle, anche se breve. E quindi carattere e coraggio non ci manca, poi il resto ce lo mettiamo con l'energia. Se qualcun altro ha una buona rientra. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.